Sicilia gialla da lunedì musumeci in merito dei siciliani. Da lunedì mattina la Sicilia sarà zona gialla. Il presidente della regione nello Musumeci ha firmato l'ordinanza che recepisce le disposizioni nazionali e, dopo tanti sacrifici, individuo a livello regionale di rischio basso. Siamo la regione con l'indice RT più basso d'Italia, annuncia il governatore. Da lunedì intanto Musumeci si confronterà con il nuovo governo, anzitutto per dare certezze dell'istoria agli operatori economici e per definire nuovi protocolli sulle aperture delle attività ancora non consentite. Per l'Hub servono 143 milioni di euro. L'Hub logistica e commerciale potrà essere realizzato solo dal mercato, lo ha spiegato il commissario dell'autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti, sentito dalle commissioni ambiente e trasporti della Camera dei Deputati, particolari che emergono dopo che lo stesso commissario ha anche incontrato il sindaco Lucio Greco. Un tampone per tutti, test covid gratis per le famiglie indigenti. Un tampone per tutti è l'iniziativa sociale organizzata da un buratorio medico, Franco Bennici, in collaborazione con l'ASPA di Caltanissetta ed alcune associazioni del territorio in occasione della giornata mondiale del malato. Tra giovedì e oggi sono stati fatti più di 300 tamponi. Cedimento a Fondo Iozza, nessun danno. Momenti di apprensione in via Giulio Cesara nel quartiere Fondo Iozza. Un cedimento provocato dalla pioggia di questa mattina ha interessato il costone prospicente a alcune abitazioni. Sul posto, oltre che vigili del fuoco, anche il sindaco Lucio Greco. San Valentino 2021 tra restrizioni e tradizioni. A causa delle restrizioni previste per la zona arancione, il San Valentino del 2021 si prospetta un po' fuori dagli schemi. Tuttavia, anche senza weekend romantici e ceni a lume di candela, in qualche locale della città con un pizzico di creatività in più e qualche gadget innovativo, la festa degli innamorati potrà comunque essere resa memorabile. Ben ritrovati con una nuova edizione del TG quotidiano. Da lunedì mattina la Sicilia sarà zona gialla. Il presidente della regione nello Musumeci ha firmato l'ordinanza che recepisce le disposizioni nazionali e, dopo tanti sacrifici, individuo a livello regionale di rischio basso. Siamo la regione con l'indice RT più basso d'Italia, annuncia il governatore. Intanto, da lunedì, Musumeci si confronterà con il nuovo governo, anzitutto per dare certezze dell'istoria agli operatori economici e per definire nuovi protocolli in vista delle aperture di quelle attività ancora non consentite. Gerry Italia. La Sicilia torna in zona gialla e lo fa con l'indice RT più basso tra le regioni d'Italia. Da lunedì quindi restrizioni più leggere, con l'ordinanza firmata ieri dal presidente della regione nello Musumeci, che nell'annunciarlo ringrazia i siciliani per i sacrifici di queste ultime settimane. Dal lunedì mattina finalmente la Sicilia sarà zona gialla. È il frutto di tanti sacrifici da parte vostra perché quella scelta sofferta della zona rossa prima e della zona arancione dopo oggi ha portato i frutti sperati. In questo momento la Sicilia è la regione con l'indice RT più basso d'Italia. Questo è merito vostro della disciplina, del rispetto delle regole e soprattutto della tutela del diritto alla salute che tutti abbiamo esercitato. Niente da fare invece per gli innamorati e i ristoratori che contavano di aprire già domenica pranzo per San Valentino. Avevo chiesto al ministro Speranza di poter consentire almeno per la giornata di domenica pranzo, giornata dedicata a San Valentino, di autorizzare i ristoranti affinché potessero lavorare. Niente da fare, mi ha scritto, mi ha risposto dicendo che il provvedimento di zona gialla e quindi delle regole possibili nella zona gialla comincia da lunedì mattina. Ma abbiamo tempo per poter recuperare, ne sono convinto. Se tutti rispetteremo le regole eviteremo di fare passi indietro ma soprattutto andremo verso la normalità. Da lunedì dunque cambiano le restrizioni. Si potrà circolare dalle 5 alle 22 nella stessa regione. È consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, massimo di due persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Resta il divieto di spostarsi in altre regioni salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. I centri commerciali rimangono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperti all'interno farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di genere alimentari, tabaccherie, edicole, librerie e vivai. Per quanto riguarda le scuole, attività in presenza al 100% per le scuole dell'infanzia, elementari e medie. Alle superiori didattica in presenza alternata per il minimo 50% e fino al 75% degli alunni. Università aperte o chiuse, sua autonoma decisione in base all'andamento dell'epidemia. Si potrà tornare nei bar e nei ristoranti dalle 5 alle 18. Dalle 18 alle 22 invece è permesso solo l'asporto di cibi e bevande dai locali con cucina, consegne a domicilio senza limiti di orario. Musei e mostre aperti dal lunedì al venerdì nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione. Al momento restano chiuse palestre, piscine, teatri e cinema, aperti invece ai centri sportivi. Da lunedì intanto Musumece annuncia l'avvio di un confronto con il nuovo governo, anzitutto per dare certezze dei ristori agli operatori economici e per definire nuovi protocolli sulle aperture delle attività ancora non consentite. Nei prossimi giorni noi Presidenti delle Regioni chiederemo al Presidente del Consiglio Draghi, non appena avrà ricevuto la fiducia del Parlamento, di poterci ricevere perché continueremo a ribadire la esigenza di poter erogare benefici finanziari a tutte le categorie economiche, a quelle soprattutto che sono state maggiormente penalizzate a causa della chiusura. Andiamo avanti, guardiamo il futuro con ottimismo, speriamo che il peggio sia già passato, sulla campagna vaccini sapete che stiamo lavorando giorno dopo giorno senza tregua, siamo stati anche qui fra i primi in Italia a provvedere alla somministrazione del prezioso liquido. Coraggio e speranza, speranza e certezza. Scende ancora il numero dei nuovi positivi in città, nelle ultime 24 ore sono tre a fronte di 29 guariti, complessivamente il numero di contagi in città supera di poco quota 300 in netta riduzione rispetto a qualche settimana fa. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria, in base ai dati di ASPE in città non risultano decessi e la linea del contagio tende a ritirarsi sempre di più. Sul territorio i nuovi contagi sono 8 a Caltanissetta, 2 a Niscemi e 1 a San Cataldo. I guariti invece sono 10 a Caltanissetta, 7 a Niscemi e 2 a San Cataldo, 1 a Deglia, Santa Caterina e a Serra di Falco. Ad oggi sul territorio coperto dall'ASPE di Caltanissetta sono stati effettuati 12.459 somministrazioni di vaccini, 7.011 prime dosi e 5.448 seconde dosi. Per l'Hub logistico e commerciale servono 143 milioni di euro e potrà essere realizzato solo dal mercato. Lo ha spiegato il commissario dell'autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti, sentito dalle commissioni ambiente e trasporti della Camera dei Deputati, particolari che emergono dopo che lo stesso commissario ha anche incontrato il sindaco Lucio Grego. Rosario Cauchi. Un investimento complessivo che toccherebbe quota 143 milioni di euro cantierabile. Già al 31 dicembre 2021 sono questi alcuni dati del progetto del Porto Hub da quanto emerso durante l'audizione davanti ai parlamentari delle commissioni riunite ambiente e trasporti della Camera. Da diverse settimane è ritornato in voga il tema dell'Hub logistico e commerciale, nonostante i continui stop di progetti certamente più semplici da realizzare, già finanziati come quelli per il portorifugio. Ad inizio mese il presidente dell'autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, è stato sentito in audizione dalle commissioni della Camera dei Deputati. Qualche giorno dopo il sindaco Lucio Grego, una delegazione di assessori e l'ingegnere Pietro Inferrera hanno avuto un incontro proprio con il commissario. Durante l'audizione alla Camera il deputato forzista Giussi Bartolozzi, che ha poi fatto da tramite istituzionale per la riunione tra l'amministrazione e Monti, ha dato altri particolari. Già nel settembre di un anno fa, infatti, Grego ha inviato al presidente della regione nell'Omusumeci, al Ministero dei Trasporti, al Dipartimento Competente, il progetto di fattibilità del Porto Hub. Tutte carte che sono sui tavoli delle istituzioni competenti, anche se l'opera non è stata inserita nelle linee programmatiche. Grego ha scelto di tenere il massimo riservo sulla vicenda dell'Hub, come ha spiegato anche dopo l'incontro con Monti. Il commissario, rispondendo nel corso dell'audizione alla Camera, ha precisato che anzitutto il Porto di Gela non è sotto leggida dell'autorità di sistema della Sicilia occidentale, ma è un porto regionale. Dando seguito alle richieste di Bartolozzi, ha parlato di un sito portuale assolutamente interessante, ma ha anche fatto capire che arrivare all'investimento economico, soprattutto così consistente, non sarà semplice per Monti. Ci sono potenzialità del sito e l'interessamento del primo player al mondo su una determinata tipologia di traffico. Nella sua disamina ha aggiunto però che la città potrà sviluppare una piattaforma a mare, ma solo se è il mercato a realizzarla. Ci vogliono quindi fondi certi dei privati che abbiano interesse a sviluppare logistica a Gela, anche da un punto di vista commerciale. Temi che vanno approfonditi attraverso il coinvolgimento di chi può dire qualcosa in più, ha precisato lo stesso Monti nel corso dell'audizione, che risale allo scorso 2 febbraio. Rimane tra le altre cose l'incognita delle zone economiche speciali. Secondo il commissario bisogna ripensare le ZES che ad oggi non hanno prodotto alcun risultato, una conclusione che vale anche per l'area locale, ricompresa tra le ZES siciliane che non sono mai veramente partite. Il progetto del Lab, ma non solo, sembra inevitabilmente passare dagli incentivi che i grandi gruppi del settore potrebbero ottenere investendo nell'area locale. Un tampone per tutti è l'iniziativa sociale organizzata dall'ambulatorio Maidico Franco Bennici in collaborazione con l'ASPO di Caltanissette ed alcune associazioni del territorio in occasione della giornata mondiale del malato. Tra giovedì e oggi sono stati effettuati più di 300 tamponi. Giuseppe Fiorelli Un tampone per tutte le persone e le famiglie in difficoltà. Un'iniziativa in occasione della giornata mondiale del malato organizzata dall'ambulatorio medico diocesano Franco Bennici in collaborazione con la piccola Casa della Misericordia, l'ASPO di Caltanissetta, la chiesa di Sant'Agostino, il Lions Club e la Croce Rossa italiana. Una manotesa verso chi non può permettersi di sostenere il costo dell'esame diagnostico che consente di scoprire se si è affetti da Covid-19. È un segno che non è soltanto un discorso legato alla preghiera, quello della giornata del malato, legata alla Madonna di Lourdes, ma bisogna darsi una mossa, dare una mano a questi nostri fratelli. Magari è un piccolo segno, ma tante gocce di acqua, come diceva Maria Teresa, forma l'oceano. Dunque ognuno può dare, può fare qualcosa per le persone più bisognose, persone che hanno in questo momento soprattutto necessità di un sorriso, di una parola di conforto, ma anche di una mano, di un aiuto. E dunque tutti siamo chiamati a essere protagonisti della storia e cercare di andare incontro ai più piccoli, ai piccoli del Vangelo, che sono i poveri, le persone sole, gli ammalati. Siamo molto contenti per il risultato che stiamo ottenendo, perché tantissima gente che ha bisogno, che quindi non ha la possibilità economica di poter fare nemmeno un tampone, sta venendo a farlo qui. E questa è un'iniziativa veramente lodevole. La piccola Casa della Misericordia, come ho detto qualche giorno fa, non si ferma mai. Queste iniziative ce ne saranno anche dopo, perché stiamo riaprendo con tutte le precauzioni l'ambulatorio e si ritornerà a fare assistenza a chi ne ha bisogno. Tra la giornata di oggi e quella di giovedì sono stati fatti più di 300 tamponi. Una giornata sociale molto importante, perché queste persone, che la maggior parte sono persone che hanno difficoltà di altro tipo, in maniera automatica poi ricadono anche sulla salute queste problematiche. Sono problematiche perché non riescono a dare la giusta importanza alla salute, perché la loro mente è concentrata su altri tipi di problemi. Infatti spesso troviamo delle situazioni molto particolari, non tanto perché la società non riesce ad aiutare questa gente da un punto di vista sanitario, perché le strutture sanitarie sono aperte a tutti, gli ospedali sono aperti a tutti. Però il nostro lavoro è incrociato con quello della piccola Casa della Divina Misericordia, perché gli operatori ascoltano questa gente. E da lì si tira fuori poi la problematica. La problematica può essere un problema di salute trascurato, perché c'è stata la mente impegnata agli altri problemi, e quindi magari ci ritroviamo a dover curare delle cose che potevano essere risolte molto più facilmente. Con il successo di questa giornata, per quanto riguarda un tampone per tutti, può diventare anche l'ambulatore Bennici, può essere anche un punto di riferimento per quanto riguarda i vaccini? Ovviamente il nostro ambulatorio è già stato utilizzato durante il periodo di screening, screening organizzati dall'ASP, ed è disponibile sia come ambulatorio che come operatori, c'è la massima disponibilità da questo punto di vista. È ovvio che noi seguiremo quelle che saranno le istruzioni della nostra direzione sanitaria. Ovviamente se la tipologia di vaccino che si andrà a fare ha la sicurezza che può avere un qualunque vaccino fatto in un ambulatorio medico, dal medico di famiglia, lo possiamo fare benissimo anche noi, senza alcun problema. I lavori in centro storico, soprattutto quelli che al momento stanno bloccando la normale circolazione in via Bresmes, nel tratto tra via Matrice e via Verga, proseguiranno ancora per alcuni giorni. Una situazione che ha portato l'amministrazione comunale a decidere di sospendere la ZTL in corso Vittorio Emanuele. La zona, traffico limitato, non verrà attivata fino al prossimo 2 marzo. La circolazione in via in corso Vittorio Emanuele, così da avere almeno un asse via aereo libero, potrà svolgersi senza le limitazioni della ZTL, che verrà riattivata dal 3 marce in poi. La decisione è stata formalizzata in una delibera. Momenti di apprensione in via Giulio Cesare, nel quartiere Fondo Iozza. Un cedimento provocato dalla pioggia di questa mattina ha interessato il costone prospicente a alcune abitazioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il sindaco Lucio Greco. Maria Teresa Corso. Si temeva una frana. In realtà si è trattato solo di un cedimento piuttosto lieve verificatosi sul costone di via Giulio Cesare a Fondo Iozza. Sul posto, a ridosso di alcune abitazioni, sono arrivati i vigili del fuoco per gli accertamenti del caso. C'era anche il sindaco Lucio Greco. C'è un problema di sicurezza. Stiamo vedendo di accertare intanto le cause di questa frana. capire che tipo di intervento necessita di messa in sicurezza. Come vedete c'è una pendenza alquanto elevata. Stiamo verificando attraverso il progettista il tipo di palificazione che è stata realizzata in questo muro di cinta. e quindi sono in corso tutti questi accertamenti per un problema di sicurezza degli abitanti di questo immobile che è nella parte sovrastante e anche in questo immobile prospicente alla via Giulio Cesare. E ovviamente fare tutte quelle che sono le iniziative, gli interventi necessari, soprattutto in dando di messa in sicurezza della situazione che si è venuta a determinare causa questa frana che c'è stata. Le piogge degli ultimi giorni potrebbero aver contribuito in una zona che è tra le più fragili da un punto di vista della tenuta idrogeologica. Tuttavia non si registrano danni. Passiamo alla cronaca giudiziaria. I carabinieri sul territorio coordinati dal colonnello Inav Borracchia sembra abbiano individuato un nuovo canale della droga meno tradizionale rispetto a quello dei normali corrieri dello spaccio. Ieri i militari hanno arrestato un giovane giolese, al momento però non sono state fornite le generalità. E' accusato di aver acquistato circa 100 grammi di hashish pare direttamente dal web. Il pacco che era diretto alla sua abitazione è stato sequestrato ed è scattato l'arresto. Per ora non emergono ulteriori particolari. I militari e i PM della procura attendono la convalida del GIP che dovrebbe tenersi lunedì. Un arresto che sembra da collegare ad altre operazioni analoghe messe a segno negli ultimi giorni dai militari ad Agrigento e a San Cataldo. Sono stati arrestati due giovani, a loro volta destinatari di pacchi contenenti droga. Pare siano stati spediti dalla Spagna. Nel giudizio di appello Falco, i magistrati della Corte d'Appello di Caltanissetta hanno accolto la richiesta di concordato avanzata dai legali dei tre imputati coinvolti nell'indagine antimafia. Tra un mese invece toccherà i legali degli altri imputati esporre le rispettive conclusioni. Rosario Cauchi. Per tre imputati coinvolti nell'indagine antimafia Falco, il giudizio di appello si è chiuso con l'accoglimento delle istanze di concordato e una rideterminazione al ribasso delle pene che gli erano state imposte in primo grado dal Collegio Penale del Tribunale di Gela. L'ufficialità è arrivata ieri mattina su richiesta avanzata dei loro legali, gli avvocati Francesco Enia, Maurizio Scicolone e Ignazio Ragnolo. Anche la Procura Generale ha dato l'assenso in primo grado al termine di una lunga istruttoria dibattimentale. La condanna più pesante era stata imposta a Gianluca Pellegrino a 22 anni e 3 mesi di reclusione. Gli investigatori lo considerano il nuovo punto di riferimento del clan Emanuello che avrebbe voluto ricostruire insieme ad altri presunti affiliati 10 anni e 2 mesi di detenzione invece ad Alessandro Pellegrino, fratello di Gianluca, con l'aggravante di aver favorito i clan 13 anni e 6 mesi ad Orazio Tosto, 13 anni e 8 mesi a Giovanni Battista Campo, 10 anni e un mese ad Emanuele Faraci, 10 anni ad Angelo Famao, 7 anni e un mese a Guido Legname, 6 anni ad Emanuele Puccio, 4 anni e 6 mesi a Emanuele Rolla, 4 anni e un mese ciascuno per Nunzio Labbiso ed Emanuele Campo, ridotti per campo a 2 anni con il concordato accolto adesso dai giudici di appello, 4 anni a Nicolò Ciaramelle e Francesco Metellino, pena rideterminata in un anno e 11 mesi sempre attraverso il concordato accolto, 3 anni a Loreto Saverino e Melchiorre Scerra, 2 anni e 8 mesi a Gaetano Davide Tranito, 2 anni a Rosario Perna. Per gli imputati che non possono accedere al concordato e che hanno posizioni più gravi sul fronte delle contestazioni, la Procura Generale ha chiesto la conferma di tutte le pronunce emesse dal Collegio Penale del Tribunale di Gela. L'unica variazione indicata riguarda la posizione di Emanuele Rolla. Secondo gli investigatori, intorno a Gianluca Pellegrino, si stava ricostruendo un nucleo del clan Emanuello che avrebbe imposto estorsioni e gestito giri di droga, oltre a controllare molti servizi di buttafuori nei locali notturni della città. In aula, tra un mese, le difese di tutti gli imputati inizieranno ad esporre le rispettive conclusioni nel tentativo di arrivare a decisioni diverse rispetto a quelle di primo grado. Voltiamo decisamente pagina. Il San Valentino del 2021 si prospetta un po' fuori dagli schemi a causa delle restrizioni previste dalla zona arancione. Tuttavia, anche senza weekend romantici, scena il lume di candela in qualche locale della città, con un pizzico di creatività in più e qualche gadget innovativo, la festa degli innamorati potrà essere comunque memorabile. Maria Teresa Corso. Quest'anno per San Valentino le tradizioni purtroppo non potranno essere rispettate e quindi, come d'altronde è già accaduto per Natale e Capodanno, anche il giorno degli innamorati si prospetta un po' fuori dagli schemi. Niente weekend romantici o cene al lume di candela in un locale della città, ma sicuramente non saranno le restrizioni previste per la zona arancione ad impedire di diffondere nell'aria un po' di romanticismo in più. Ma voi come trascorrerete la sera di San Valentino? La sera di San Valentino è a casa. Ma cosa avete in programma di organizzare? Niente di particolare, seratina a casa tranquilla, cena, romantica per quel che si può. Quindi diciamo che anche se ci siamo trovati in questa situazione il romanticismo non mancherà. Ma non deve mancare, sennò... Magari fare un pensiero, un mazzo di rose, un beluche, giusto per ricordare un giorno importante. Hai in previsione di organizzare pure una piccola genetta? Ma se è il caso sì. Si è sperato sino all'ultimo di poter passare in zona gialla, ma purtroppo così non è stato. Tuttavia con un pizzico di creatività si riuscirà comunque a rendere la festa degli innamorati indimenticabile. Alle tradizionali rose roste e peluche si aggiungono quest'anno anche soluzioni alternative, così da rendere speciale anche un piccolo pensiero per la propria dolce metà. Tradizionalmente la rosa sono quelle più vendute, però vanno associati anche a dei peluche, dei teddy, dei palloncini. In genere è la rosa che primeggia. Hai notato delle differenze rispetto all'anno scorso? Sì, un po' sì. Anche negli acquisti sono un po' più contenuti. E lei quindi invece cos'è che suggerisce a questi innamorati? È chiaro di presentarsi con l'omaggio floreale, che comunque è l'espressione più bella, regalare dei fiori. Poi se sono associati anche a dei gadget, perché no? Potrebbe essere anche interessante, qualcosa di insolito, presentare delle rose in una scatola, chiaramente chiusa o col trasparente per avere la visibilità diretta, mentre chiusa è una sorpresa. E una può variare anche nelle soluzioni, mettere dei gadget dentro questa scatola insieme a delle rose, oppure con altri fiori, perché c'è anche chi non piace la rosa e preferisce anche altri fiori. Quindi come soluzione al classico bouquet, mazzo che sia, fascio, potrebbe essere interessante anche. Cosa è stato acquistato per il San Valentino del 2021? La tendenza dell'anno è il teddy, che sono degli orsetti molto carini, in poliform, quindi materiali molto simili a lattici, che sono anallergici. E li stanno regalando tanto per le fidanzate, per le mogli e anche per le bimbe, per le bimbe a casa. Invece c'è stata pure qualche donna che ha fatto qualche acquisto per San Valentino, il contrario? Se ne sono viste poche, diciamo che l'uomo è molto più romantico ultimamente verso la donna. Poche donne ad acquistare, diciamo, dei bracciali, così, poco, poco. La festa di San Valentino, anche se da sempre è riservata ai fidanzati, è comunque la festa degli innamorati. E' un po' tutti, anche se segretamente siamo di qualcuno innamorati. Non sarà forse come ce lo aspettavamo, ma non solo per chi ha già trovato la propria dolce metà, ma anche per chi ha ancora un cuore solitario, il San Valentino del 2021 potrà comunque rivelarsi una giornata memorabile. I sindaci della SRR4 hanno rinviato la decisione in merito alla gestione in ausa del servizio rifiuti. Prima bisognerà approfondire alcuni dettagli da effettuare con i rispettivi consigli comunali e l'aggiunta. Una nuova riunione si terrà a fine mese. Rosario Cauchi. I sindaci della SRR4 hanno deciso che prima di arrivare alla scelta finale sull'eventuale affidamento in ausa del servizio rifiuti, vogliono avere la garanzia di altri passaggi istituzionali. Se ne riparlerà quindi a fine mese con una nuova riunione già fissata al termine di quella che si è tenuta nel pomeriggio di ieri. I sindaci, come ha già fatto l'avvocato Lucio Greco, vogliono rapportarsi con i consigli comunali e con le rispettive giunte. scegliere una gestione in ausa completamente pubblica sarebbe una tappa senza troppi precedenti nel territorio, almeno da quando il servizio rifiuti è stato strutturato prima tramite Ato e ora per il tramite della SRR. Sembra comunque che il risparmio economico di una gestione in ausa abbia convinto diversi primi cittadini, anche se c'è lo scetticismo di altri che temono un salto nel vuoto, principalmente da un punto di vista di tenuta finanziaria. Il presidente della SRR4, Filippo Balbo, pare molto convinto di poter arrivare alla soluzione in ausa da affidare alla Impianti SRR, società controllata, sorta per portare avanti l'impiantistica. Il sindaco Lucio Greco giovedì ha incontrato su sua iniziativa sia i sindacati del settore che i capi gruppo consigliari. Prevarrebbe la soluzione dell'affidamento in ausa e anche l'avvocato sarebbe piuttosto persuaso, anche a seguito delle relazioni tecniche dei consulenti della SRR e della dirigente Grazia Cosentino, che a sua volta ha partecipato alla riunione con capi gruppo e sindacati. Tra i meno convinti sul passaggio alla gestione in ausa c'è il sindaco di Riesi, Salvatore Chiantia, che dati alla mano non condivide l'analisi dei vertici della SRR, anche se a pronunciarsi dovrà essere l'intera assemblea. Un affidamento in ausa aprirebbe una fase del tutto nuova, senza doversi affidare a società private, ma probabilmente con tante incognite da affrontare prima possibile, visto che il servizio non può di certo essere fermato. Ad oggi a Gela, Niscemi, Butera, Mazzarino, Riesi, Deglie, Sommatino, Tecra, continuano a gestire in proroga tutte le attività. È tutto, questa era l'ultima notizia. Vi ricordo che potete continuare a seguire i servizi del nostro telegiornale con tutti gli aggiornamenti, anche sui nostri profili social di Facebook, Instagram e YouTube. Grazie per averci seguito. Grazie per aver guardato il video.